Tazza e o no? Faccio il centro, tu che stai guardando questo video lascia la like, commenterai e mi seguirai Dai fatelo lo stesso Eccolo! Siamo tornati, oggi è sabato, nuovo vlog In questi giorni ho messo un sacco di video a girare su internet dove sostanzialmente mostrano che noi maschi non riusciamo a fare delle cose Mentre le ragazze si, quindi io oggi voglio provare e testare se effettivamente è vero Sono appena andato a tagliarmi i capelli, ragazzi non giudicatemi, lo so, lo so, il parrucchiere oggi è stato davvero scorretto Infatti me li ha fatti veramente male Ovviamente dato che è una sfida praticamente maschi contro femmine, verrà il nostro soccorso mati Eccola! Ok, let's go, vediamo se veramente noi maschi non siamo in grado di fare un sacco di cose come vincolo E' proprio così, non dovete fare niente Per favore, ma per favore Facciamo spazio Questa cosa è la prima, io l'ho vista davvero tantissime volte in giro per internet Però non l'ho mai provato effettivamente Quindi vai, let's go, guardiamola Allora, se si piega così Cosa? E poi l'uomo, il maschio dovrebbe cadere Ok Allora Così 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 Ok Così Non ci credo, ma come è possibile? È semplicissimo Aspetta, riprovo, no, riprovo È impossibile, è impossibile Così Sarò il primo uomo a riuscire a fare questa cosa C'è fatto C'è fatto C'è fatto C'è fatto Primo mito sfatato Non vi preoccupate Amici, uomini Ci penso io a sfatare tutti questi miti E fare finire questi ragazzi di prenderci in giro Passiamo col secondo, vai Così Ci ti metti Ci vuole una sedia Sì Sedia Prendi la sedia Alzi Ok Allora ci metti sedia La testa appoggiata al muro Ok Fai paura Ok Tiri su così E poi ti tiri su Sì Un po' più giù con la schiena E' più giù come faccio ad andare giù con la schiena Ok vai E poi Tira la sedia verso di te Ok E mi devo No devi tenere No Devi tenerla dal basso però È impossibile È impossibile Ma com'è possibile Ci hai fatta Amici uomini Sono qui per sfatare tutti i miti Non ci credo Amici posso dire che sto per diventare un eroe Eccolo capeone Per questo terzo test ci vorrà un manico di scopa Ok Mati facci vedere cosa sostanzialmente noi uomini, noi maschi In questo caso io dovrei fare Vai Allora E abbassi così Sì Poi fai uno Due Su Ok Tiri a voi non riuscire a scavacare la scopa Ok Ok Proviamo Ok E vado Allora scopa Uno Due Tre C'hai fatto Così Sì Possibile Possibile che sono un capeone così Va dai C'hai fatto Due sole cose O io sono fortissimo O gli altri Io non sono O i video sono fake I video degli altri sono fake È impossibile C'ha fatto Dicono che milioni I maschi non riescono a fare queste cose Com'è che io ci riesco E sono i capeoni È un po' difficile ma Fattibile Bravo C'è un nuovo eroe in città E i capeoni Siamo arrivati al quarto? Al quarto Al quarto Sperimento Sperimento Sui maschi Vai Facci vedere Allora Questo è impossibile Metti le ginocchia attaccate al muro Sì Così Sì E poi scendi Cioè devi scendere così tenendo le ginocchia attaccate Ok Sì Tu ce l'hai fatta Ce l'ho fatta Vediamo Però è difficile Le ginocchia attaccate Sì Scendere così Scendi Vai Vai No 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 Non lo accetto Vai riprova Non lo accetto Il primo tentativo Boh Non ti viene Vai No no accetto Eccolo Sono anche attaccate Sì E scendi E scendi Non vai a tenersi No giù Eh giù di così No Devi scendere Sì Sei fatta E capeone Sì ma allora gli altri lo fanno apposta E che io sono snodato Mamma mia amici Non mi merito un bel mi piace un bel commento E il rispetto di tutti i maschi che stanno guardando questo video Eh Questa è la più bella Eccolo E' il penultimo esprimento Allora sto andando molto bene Sì sei riuscita a fare tutto E sostanzialmente in questo qua bisogna mettere le braccia attaccate Fa vedere che migliori di uomini non riescono a quando abbassano a tenerli attaccati Proviamo Fatto Attacchiamo così E scendiamo Fa male eh No Uh a me fa male Però Ah mi sto facendo male Ma perché ti sto facendo male? Eh non lo so Mi fa male i muscoli Cioè fai come fa così Però ce l'ho fatta Uh sei l'eccezione Che conferma la regola Vedi Ma ti fa male Fa male qua Su è finita normale Perché c'è il muscolo Come vedi Vabbè però se non è niente anche se è di normale Allora non lo tieni normale così Se volete che ci unisci Ma uno va in giro così Non è ormai che uno vada in giro così Fai conto di un tatuaggio che è così Fai così Fai così Così Unisci Fai fatica Eh certo faccio fatica Però ce la faccio Questo è l'importante Uh E capeone Stiamo per passare all'ultimo Sì Ultimo Mesghiri St'ultimo sembra davvero difficile Adesso vi faccio vedere qui di fianco L'anteprima di quello che dovremmo fare Allora qui Ho i dubbi In realtà Ho i dubbi pure io Anche tu Difficile questo qua Dai proviamo 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 Questo è complicato Questo è veramente complicato Sapete cosa contraddistingue me Da tutti gli altri maschi Che ci siete voi Che fate il tifo per me Che io devo dimostrare a voi Che io sono il capeone Io non so se sono capace Vediamo Barco via Vieni qua Barco vieni qua Ok Bravo Brava Vieni qua Ok Vai vado io Vado io Vai 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 Scott Giù Tieni su No Secondo me ce l'hai No Questo è davvero difficile Dai il campione È l'ultimo No No La terza era buona Ti sei fatto male Ti sei fatto male Ma hai sbattuto il braccio Sì ho sbattuto il braccio Ci fa male Ah sì Un'altra volta Ce la posso fare Ce la posso fare Aspetta Mi metto i pantaloncini Mentre si cambia Secondo noi Barbo Ce la fa o non ce la fa Ce la fa o non ce la fa Salute a tutti Fai ciao Iscrivetevi Comodo Ciao Barbo Mai mollare Mai mollare Quindi Giuseppe Non è un maschio In realtà Mamma mia che carlo Sono fortissimo Sono il capeone Il capeone Se vi dovessero capitare Altre sfide Dove dicono Che noi maschi Non siamo in grado Di farle Mi raccomando Mandateli Che ci penso io A sfatare tutti i miti Yes sir È riuscito a fare Yes sir Aspetta È riuscito a fare tutto Yes sir È scelto proprio bene Mi raccomando Tutto il merch Eccolo Su Giuseppe Barbuto Questa è la più bella Questa Ragioni Ci vediamo con un prossimo video Ciao